Si chiama Slurry Seal e sarà utilizzato da lunedì prossimo per asfaltare la Nazionale 16 da Ponte Metauro alla Rotonda di Centinarola, passando per via Roma. Sottile, poco più di un centimetro e performante dunque, è una struttura sigillante che aumenta la sicurezza stradale in frenata e dura più a lungo del solito asfalto. Il nuovo manto stradale di concezione innovativa è utilizzato per la prima volta sulle strade fanesi ed è scaturito dalla collaborazione del Comune con l'Università della Repubblica di San Marino. Questo lotto di asfaltature del costo di 794 mila euro sarà un lavoro importante che dovrà essere anche un po' digerito dalla cittadinanza perché non saranno poche le variazioni alla viabilità e gli accorgimenti tecnici del caso. Esempio, prima di un'ora e mezza non si potrà passarci sopra e va fatto di giorno per la reazione fotosensibile che deve scaturirne. Ma i tecnici del Comune e l'assessore garantiscono che ne varrà la pena. Abbiamo sotto di noi la cartina per le prossime asfaltature che partiranno da lunedì. Sì, è un intervento molto esteso, infatti di un importo anche abbastanza rilevante perché 700 mila euro fa parte di quel programma di asfaltature da 4 milioni di euro che faremo nel 2016 che è un evento tra virgolette storico perché riusciamo ad asfaltare quest'anno più di quello che è stato fatto negli ultimi dieci anni anche a causa del blocco e del patto di stabilità. È un intervento molto esteso che interessa ovviamente, come tutti sanno, un'arteria molto importante della città di Fano, quindi saranno segnalate sensi unici alternati e invitiamo la popolazione e la cittadinanza a fare attenzione perché essendo un intervento innovativo è un intervento che va a coprire, cioè metteremo un sigillo sulla strada statale in maniera tale che allunghiamo la vita della strada.